Buongiorno. Ciao. Nickname. Non ce l'ho. Come non ce l'hai? Nickname no, ho il nome solo. Cosa ci fai senza nickname a un raduno? Sono nella moglie di Andy ecco. No, 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 nome, no. Diana. Diana. Cosa fai nella vita? Faccio la mediatrice culturale. Che praticamente è tradotto, vuol dire? Parlo in giapponese. Esatto, dai. Tante per Yuri. Parlo in giapponese. Ah sì? Una piccola cosa. Brute cose. Tanto non le so tradurre, non cambia niente. Però è stata disegnata, non so dire delle brutte cose. Ah, eh, eh, eh. Per farlo tradurre. Ricapitoliamo. Allora, dove sei nata? In Peru. In Peru. Ok, entonces hablo en español. Sì, ecco, tu ha nasce. Ciao, sono la moglie del tucco, Simoneppa. Io sono il tucco. No, ma tu hai il push up, c'hai. No, ma tu hai il push up, c'hai. No, 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 no. Aglio, eh, eh, qua, qua, inquadrami qua a me. Anche tu hai il push up. Eh, ragazzo. Aspetta, ho trovato un altro push up. Eh, sempre bello. Aspetta, 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 aspetta. Nickname. Hobby, grazie. Meglio umore o meglio bionde? Siete grandi. Aspetta, se ti togli dalla... Sto cercando di filmare. Aspetta, alzati in piedi e vieni con me. Così va bene. Dai più giù che vedi il push up. Senti, ma tu hai pagato la quota per iscriverti a The Club? Chiaramente, poi ti dico come. A San Pedro ho pagato. Il mio tuo nome. Che lavoro fai? Nickname. Undici. Undici. La tua posizione preferita a letto. Ha letto. Wornet. Eh, Wornet. Come ha detto... Altra domanda. È meglio essere lasciati o lasciare? Me è un cartone dei uvi che è un cartone ai uvi. Che vuol dire? Che è meglio un cartone... Attenzione, attenzione, si sposta l'interesse verso quest'uomo. Si presenti? Sono Max di Brescia, sono l'amico di Simone. Ma senza computer, quindi non conosco nessuno. Oltre il computer hai perso la voce oppure è così? No, è così, è così la voce. Sei molto radiofonico quindi? Molto radiofonico. Bene. Facci un commento a caldo sulla giornata. La giornata è cominciata bene. Con i vari svincoli di Simone sull'autostrada che nessuno ne ha capito niente. È iniziata bene, devo dire. Ma cosa ti aspetti da questo raduno? Di mangiare qualcosa, di vedere qualche bella ragazza. Il problema è che... Non so se sarai... Ascolta, ma hai prenotato la chiave Excalibur? No. Quindi non mangio, ho già capito. Io non pranzo. Cioè, tu credi di fare le gite quelle 19,90 euro e non c'è la fregatura? Qua devi comprare. Ci sarà qualcosa, immagino. Devi comprare. Hai portato il libretto del segno? No. In cicopedia ce ne hai. Non uso mai il segno. In cicopedia ce ne hai. Non mi interessa. Abbiamo anche la macchina per passare il... Faccio anche il gesto. Per passare, esatto. La carta ce l'ho come tutti. Io dovevo andare in base. Senti, un saluto a tutti quelli che ti stanno guardando. Buona onda a tutti. Basta? Basta con ciò. A posto. Non ringraziamo. Non è sufficiente. Grazie a te. What name? Sandro. Nick Sandro? Sì, sì. Ok. Lei ha una Civic o cosa? Sono una Zavorra. Dov'è sua moglie? È a casa. Ma come mai? Con la Shela. Con chi? Non so. È un problema suo. Che cosa ti piacciono più? I primi o i secondi? Tutto. Tutto. La colazione come è stata? Abbondante? Abbazianza. Cosa ho mangiato? Se bissecchire, se bissecchire di videllone e tre bissecchi di vidello. Mappelo. Un saluto a chi guarderà questo video. Buongiorno. 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 Presentatevi. Io sono Rachele, sono la ragazza di Teo. Aspetta che faccio la zoomata. Io sono mine, ma sono l'amica di Rachele. Solito manino. Ale, no, vabbè, non ho zoomato su nulla. Ovviamente in rosso. Preferite gli uomini depilati o quelli in nature, diciamo? Per forza di cose. No, no, non lo sappiamo. No, no, non lo scherzo. No, a lei piace un po' le... Ah, quindi depilato. No, no, assolutamente no. Come no? Un po' più maccio. Sì, sì, sì. Ok, perfetto. Allora, no, volevo fare una battutaccia, però mi sono trattenuta. No, vabbè, non c'è problema. Siamo fra amici. Sì, sì. Che cosa vi aspettate da questo raduno? Speriamo una bella giornata. Perfetto, buon cibo, vediamo l'Evaccio. Buon vino. Oh, complimenti. Come abbiamo già detto, buon vino e buon cibo. Perché giustamente nella botte piccola... C'è il meglio buono. Ecco. E qua, in questa zona di vini buoni, ci riempiamo. A posto. Scusate, mi sta suonando il cellulare, quindi devo chiudere l'intervista. Buona giornata. Benvenuti a una nuova puntata di The Club. Nickname. Faiago. Nerviù. Preferisci... Bob. Un appello a tutti quelli che non... Poi vado su YouTube? Sì. Grande. Un appello a tutti quelli che non sono venuti. E ora che è stato più spogliarello, eh. Un messaggio promozionale per il... L'ha già fatto. L'ha già fatto. Sei già spogliato. Chi sei spogliato? Ti sei spogliato? Chi sei spogliato? Chi sei spogliato? Chi sei spogliato? Da... Ma che moglie di Liria? Io? Ah sì, no. Mi hanno spogliato. Ti hanno spogliato. Ti sei fatto spogliare. Mi hanno anche frustato. È bene anche. Mi sanno abbastanza. Ascolta, ma... Purtroppo. Dov'è Sanpei? Che ne so. Dove sei Sanpei? Sanpei? Dove sei? Stiamo aspettando. Consimulamente. È lodo. È lodo. È lodo. Bob. Bob. Un saluto a tutti quelli che stanno guardando. Alex HCC. Sì. 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 Sì.